Fratelli d'Italia oggi di fronte all'ambasciata turca per dire no all'imperialismo di Erdogan. È inaccettabile la violazione dei confini siriani, è inaccettabile la guerra mossa ai kurdi siriani che in questi anni si sono eroicamente battuti contro l'Isis, è inaccettabile il silenzio dell'Occidente, della Nato, della quale la Turchia fa parte, e dell'Unione Europea che in questi anni ha riempito la Turchia di soldi. L'Unione Europea sia pronta a rivedere tutti gli accordi di partenariato con la Turchia se Erdogan non cesserà questo atteggiamento perché ci hanno raccontato che l'integrità di un territorio era una ragione anche per avviare le sanzioni come è stato fatto con la Russia e sull'Italia.